Benvenuti, benvenuti cari amici, siamo un video di questo nuovo video Naturalmente come sempre ricordo di subito di like, di iscrivervi al canale, di iscrivervi anche nel Instagram Importantissimo dump da parte di Bitcoin, andrò a vedere il tutto all'interno di questo video Ovviamente tutto ciò è avvenuto perché c'è stato letteralmente un dump che è importante da parte dell'SP500 Potenziale recessione negli Stati Uniti, andrò a vedere il tutto ma soprattutto c'è stato un importante dump da parte del Nikkei I principali indice giapponese ovviamente poi hanno seguito anche l'Helcoin letteralmente in un bagno di sangue Quindi andrò a vedere il tutto all'interno di questo video e per cui iniziamo subito Per cui andiamo subito a vedere quello che sta avvenendo su Bitcoin in questo preciso momento Prezzo di 52.500 dollari Quindi c'è stato un importante dump, andrò ora a vederlo, andrò a vedere anche i motivi per quali c'è stato Però io stavo cercando di capire perché siamo andati a prendere determinati livelli Siamo andati a prendere questo livello, livello dei 48.672 dollari Che vi ricordo essere un vecchio top di gennaio del 2024 Ora il fatto che noi siamo andati a prendere proprio questo livello, cosa indica? Indica che qua c'erano già dei bei piazzati C'era già gente che aveva posto, che le va, io ritengo prettamente i grossi Quindi Balene, Exchange e compagnia bella, saranno già piazzati qui E da qui poi abbiamo preso e siamo ripartiti Quindi secondo me questa è pura manipolazione Andrò a vedere anche quello che... Poi sono anche le notizie perché ragazzi Sull'effettivo non è successo nulla, se non per l'appunto la situazione in Israele Ma per quanto riguarda Stati Uniti ancora ci sono per lo più preoccupazioni Quindi vedremo se effettivamente magari con qualche manovra, qualche azione Poi tutto rientrerà in controllo Però secondo me torneremo qui in controllo Ma lì ci vorrà anche un mese, un mese, due mesi, tre mesi Che secondo me il bull market arriverà Però intanto nel mentre si soffre un po' Perché fa parte anche del gioco ragazzi C'è bisogno di essere un po' masochistico per star dentro Però sappiate che queste sono anche determinate occasioni Quindi che cosa vediamo? Vediamo che per l'appunto abbiamo fatto touch in questa zona Ora c'è stato subito riassorbimento E potremo magari vedere nuovamente Ok double bottom Nuovamente in zona 49 e 3 Proprio per ripartire Questo è un po' quello che mi aspetto Dopodiché andiamo a vedere anche daily Daily abbiamo ripulito letteralmente l'RSI Quindi ottimo a questo punto di vista Siamo arrivati a 26 di RSI Io più volte avevo detto Guardate secondo me andremo a lateralizzare Ok in zona 60 barra 70 mila dollari I 48 onesto non me li aspettavo Cioè potevano arrivare Però diciamo era una situazione molto improbabile Però è stato proprio flash Ok ce li abbiamo presi proprio veloci E poi abbiamo insomma già riassorbito Quindi questo voleva dire Lo dico e ribadisco Confermo che qui c'era tantissima Ok liquidità già piazzata su questi livelli Dopodiché andiamo a vedere anche Ethereum Ok Ethereum che in questa fase di mercato Insomma anche lui ha perso tantissimo Guardate qui i prezzi di Ethereum Sui ora 2313 Veramente è un qualcosa di assurdo Quello che sta venendo su Ethereum in questo momento E Ethereum ha perso molto più Ok rispetto a Bitcoin Perché ovviamente è una delle principali Alcoin tra quelli esistenti E anche qui paradossalmente ragazzi Si sta elettralizzando Perché si è andati a prendere Un vecchio Una vecchia resistenza Dei 2.158 Registrata nell'aprile 2023 Quindi insomma anche Ethereum Dal mio punto di vista è safe E tra l'altro guardate qui Anche Ethereum contro Bitcoin Secondo me è molto interessante Nel senso che abbiamo buccato supporto Quindi addirittura abbiamo fatto 3.9 Secondo me è prima o poi torneremo Che in questa zona è di 8 centesimi Quindi attenzione ad Ether contro Bitcoin Che dal mio punto di vista è molto molto interessante Potrebbe magari regalare Non dico da qui a breve Però da qui a 6 mesi Anche un per 2 Nei confronti di Bit Ovviamente se Bit andrà a scherocchettare Sarà un po' più di 2.5 Dopo che andiamo a vedere le notizie Ok perché c'è stato letteralmente questo dump Penso che vediamo chiaramente Che in 3 giorni L'SP500 è scaricato 11% circa Ok quindi Insomma sapere l'SP L'importanza Ok che ha all'interno Soprattutto del mercato crypto Mercato crypto con mercato Discon Quindi ovviamente quando i mercati tradizionali Vanno a perdere tanto Le crypto perdono ancora di più Ovviamente se performano Le crypto vanno a performare ancora di più E andiamo a vedere anche Nikkei Perché Nikkei è ancora più Insomma c'è stato un dump Ancora più violento Vi ricordo Indice giapponese Che ha perso circa il 28% Poi c'è stato subito nuovamente un riassorbimento Anche qui flash 10,10% E diciamo che anche le borse asiatiche Ce l'hanno fatta Insomma Oggi In particolare Però questo potrebbe essere Guardate qui Vorrei mostrarvi Soprattutto sul Nikkei C'è un importante supportone Qua in zona 30.000 Ora siamo a 32.000 C'è stato Riassorbimento Secondo me questo insomma È un segnale positivo Vedremo se sarà così Però abbiamo visto come più volte Anche il Nikkei che aveva confermato Prima in zona 25 Poi siamo arrivati a 41 Guardate qui nei giri Pochissimo tempo Circa un annetto E ora sembra confermare Il supporto a 30.000 Quindi insomma Vediamo un po' Però insomma Rimango bullish Anche sulle borse asiatiche Quindi Dopo che il venerdì nero Potremmo dire È arrivato anche Un lunedì nero Che letteralmente Anche qui Insomma Sui solamente 4 ore Vanno a confermarci Quella che è stata la situazione E soprattutto Volevo anche mostrarvi Un po' Quello che Sono Ok? Le notizie All'interno degli Stati Uniti Notizie che non sono Assolutamente belle Ok? In questo momento Si parla di una possibile Recessione Ok? Nei Stati Uniti Dovuta per lo più anche Al settore manufatturiero Che non sta assolutamente Spingendo Ma soprattutto anche Al richieste Ok? Di sussidi Di disoccupazione Quindi insomma che sta aumentando Situazione un po' caotica In Stati Uniti In quest'estate Che Fisiologicamente Ok? Anche un po' più bullish Ok? Sull'occupazione In questa fase di mercato Edditora siamo bearish Anche sulla occupazione Potremmo Così un po' Definirla Dopo che c'è stato anche Questo pump Da parte Dell'euro dollaro Ok? Eccolo qua Insomma c'è stato un bel pump Da parte dell'euro sul dollaro Dopo in seguito A questa notizia E volevo mostrarvi anche Un po' quello Che sta avvenendo ora Sulla altcoin Altcoin che Come sappiamo Sono letteralmente in difficoltà Guardate qui Siamo a livello di 18 Ovviamente In seguito a questo dump Molto importante E sono pochissime Ok? Ora le altcoin Che hanno performato Bene Guardate qui Di cui Solamente 3 in positivo E nei ultimi 90 giorni Restate negative Quindi insomma Non è un gran Bel periodo per le altcoin Però è proprio in questa fase di mercato Che bisogna Maggiormente guardarle E soprattutto Volevo anche mostrarvi La Bitcoin Dominance Ecco qui Si è arrivati a 57 E 24 Quindi sono una Bitcoin Dominance Molto alta in questa fase di mercato Siamo praticamente i massimi Possiamo ancora spingere Sua Bitcoin Dominance Sì Però io Credo che insomma Non dico che siano arrivati al top Però quasi Ok? Soprattutto questo livello Potrebbe essere l'ultimo livello Quello dei Per l'appunto 57 27 Che stanno venendo ora Che era un vecchio supporto Del 14 settembre L'unica 20 Quindi vedremo se da qui Letteralmente Le altcoin Andranno a partire Dopodiché ti ricordo In questa fase di mercato Che magari è un po' difficile Un po' Soprattutto a livello di tolleranza Io ho fatto una super offerta Per quanto riguarda Il portoglio di Capito Cowboy Quindi ti lascio il link In descrizione E secondo me è fondamentale Per capire anche Quello che sta avvenendo In questa situazione di mercato E anche come comportarsi Ok? In questa situazione di mercato Quindi insomma Inserisci i dati Trovi qui tutto Ok? E dopodiché Siamo andati letteralmente Ad aggiornare Il sito di samovit.com Veramente una cosa pazzesca Quindi anche voi Se volete Prenotare la tua call gratuita Vai qui Ti registri E prenotare la tua call gratuita Per cui andiamo a vedere Anche quello che è venuto All'interno del settore Meme Il settore Meme Che insomma ha avuto Un dump importante Meno 20% Sul giornaliero Vanno a mente Qualcosa di assurdo Però Se confrontato Ethereum Praticamente ha tenuto Ok? Il dump Ok di Ethereum Quindi Siamo a 34 miliardi Vi ricordo Un minimo storico Da parte di Meme Fu di 20 miliardi In questo famoso Bear market Del 2022 Troviamo Doge 8 centesimi 6 Shiba Inu 1176 Pepe 658 Insomma vediamo Secondo me Grosse occasioni Ok in questa fase di mercato Andiamo con la prima Che è Ovviamente Il buon Doge Doge in questo momento Prezzo di 8 centesimi 6 Abbiamo questo supporto In zona 7 centesimi Per cui andiamo a vedere Se potenzialmente Dogecoin Potrebbe andarla a prendere Doge che ha fatto Il livello di 8 centesimi Che risultava essere Un'altra Resistenza importante Del 24 Luglio 2023 Quindi praticamente Siamo tornati Ai livelli Della scorsa Estate Nessuno Poi si sarebbe Aspettato Insomma Un Sky Rockets Così importante Di Doge E chissà Che da qui In poi Non parta Nuovamente Sky Rockets Per quello Lo dico ancora una volta Ribadisco Sarà Bull Market Leggendario Quindi Da mio punto di vista Sono occasioni Poi vediamo Chiaramente qui Ci siamo fermati 8 centesimi 2 Sul daily RSI Completamente ripuliti Quindi insomma Io su Doge È una buona occasione Soprattutto Anche il fatto Di aver ritestato Il supporto Contro Bitcoin Di zona 170 Vi ricordo Come Dogecoin È già da tanto tempo Condeggia Tra livello di 170 E questa trendline Discendente Che è di lungo periodo Quindi vediamo un po' Quello che succede Su Dogecoin Però insomma Sembra interessante Che le action In questa fase di mercato Dopodiché Andiamo a dare Shiba Inu Shiba Inu Che in questo momento Ha un prezzo di 1180 Quindi anche qui Più o meno Ho ritestato Quello che era Un vecchio massimo Relativo Del dicembre 23 E abbiamo addirittura Raggiunto livelli Di Guardate qui Ora ve lo mostro Però dovrebbe essere Intorno ai 1100 Il livello Sì addirittura A 1155 E' veramente assurdo Che è avvenuto Su Shiba Inu E anche qui Si è andati a ritestare Praticamente il supporto Di zona 2000 E attenzionaci Perché anche qui Potrebbe essere Una grossa Occasione I buy Dopodiché Andiamo a dare Pepe Insomma Su tutto Sembra essere interessante Pepe è addirittura Andato a prendere Un altro supporto Di zona 600 Ora sembra in zona 660 Quindi insomma Interessante Anche Pepe Bretta Addirittura Andato a prendere La zona Dei 65 Quindi un dump Veramente Insomma importante Per vedere Guardate qui Abbiamo fatto Un meno 66% Insomma Si configura Che con I classici dump Che ci furono Già da parte Bretta Guardate qui Un meno 60% Già fatto in passato Quindi insomma Stiamo a vedere Però insomma Bretta Secondo me È uno di quei memi Di rete base Che esploderà O che in futuro Quindi vedremo un po' Cosa succederà Dopodiché Crash Espresso Anche su Bretta Che in questo momento Capitalizza Sui 800 milioni Dicendo Secondo me Raggiungerà Almeno 25 billion Quindi lui è ancora Convinto di 25x Vedremo un po' Cosa succederà Ovviamente Durante il bull market Bisogna anche Tolerare Questi movimenti Vedremo un po' Quello Che sarà il futuro Stessa Cosa anche Avvenuta su Bome Bome che addirittura Ha scaricato I recenti livelli 1100 Ok Se andate a scaricare Quasi il 50% Quindi nel giro È una settimana Assurdo Quello che è Su Bome Meno 50% Pazzesco Però anche qui Avete detto Addirittura Wiki Le RSI Siamo sotto i 30 Quindi anche qui Molte molto interessante E vedi Ti ricordo Che se anche tu Vuoi migliorare Quelle che sono le tue Conoscenze Dentro del mondo Cripto Vuoi capire Quello che sta venendo Minuto per minuto Sul mondo cripto E vuoi soprattutto Impostare una strategia E raggiungere Determine target Ti ricordo Per notare Tu cosa gratuita Andrò a vedere Insieme Quello che è Il gruppo Dei Cowboys E per cui vi sia piaciuto Questo video Ti ricordo Di suscrittare Il like Iscriviti al canale E noi Ci vediamo Presto Hasta la vista Home Home E E E E E E E